Noi come sindacati, mi auguro che la Stama questo lo riporto, noi come sindacati siamo disponibili a spiegargli che cosa dice l'articolo 18, l'articolo 18 sancisce che a livello provinciale gli ospedali devono avere tre medicine, lui ne ha creati cinque, sostiene che le strutture complesse esistenti non possono essere abolite, non possono sorgere nuove strutture complesse e guarda caso per l'area amministrativa hanno fatto sei avvisi di strutture complesse, due inesistenti addirittura prendo in una di queste all'area medica e sanitaria che non ha niente a che vedere con l'amministrativa, allora sono d'accordo, non c'è la volontà di risolvere il problema dell'ospedale di loro, perché negli altri ospedali le nomine vengono a parte in 24 ore, vedi il direttore sanitario a merito, basta andare a vedere il prospetto che hanno presentato delle parti fra Gioia D'Auro e Polista senza andare a fare lotta di campanellismo, quindi vuol dire che l'occhio ha un occhio diverso dall'altro ospedale. Noi non chiediamo niente, l'abbiamo detto al sindaco, lo ringraziamo, chiediamo che l'ospedale di Lopoli venga portato avanti come l'hanno stabilito a voi, ospedale Spor, allora se Sarica non sa, il dottore Sarica non sa cosa significa l'ospedale Spor, noi siamo a disposizione per spiegare che cos'è l'ospedale Spor. Non esiste nessun problema ad essere d'accordo sulla non funzionalità dell'ospedale, però non per difendere me stesso o altri politici, non mi definisco nemmeno un politico piccolo consigliere di una città come l'Ocri, però per dare chiarezza a quello che si dice, dico le responsabilità del malfunzionamento e della situazione dell'ospedale sono solo ed esclusivamente dei politici o sono di tutti, di chi ci opera là dentro, di chi nella vita vive insieme alle proprie famiglie, a più membri familiari e che ha portato quelle situazioni particolari dentro l'ospedale. Io vengo dal mondo dell'impenditoria, posso pure avere un deficit io come direzione, come cambiamento di mezzi per migliorare la situazione, però i dipendenti che lavorano dentro, in generale dal medico all'ultimo dipendente che possa esistere, debbano dare sempre il massimo e portare sempre il meglio di quello che si può portare come avanguardia, questo a me non risulta. Io so che ci sono, non mi faccio concludere, poi direi che quello che vuole, io so che ci sono dei medici che forse vanno un'ora e poi non vanno più, io so che ci sono degli infermieri che sono negli uffici, io so che ci sono, non so come si chiamano adesso, ma a volte si chiamano inservienti, che sono negli uffici. Abbiamo mai provveduto a vedere un elenco di questa gente e farle rientrare ognuno al proprio lavoro e fargli fare i medici, i medici e controllarle se vanno alle 7 e escono alle 4 di pomeriggio, gli infermieri e gli infermieri e chi deve fare la lotta, come diceva qua il mio amico, fa veramente il suo lavoro? Chi lo doveva fare? solo il politico, il Presidente della Regione, il Commissario dell'Asp? O lo dovevamo fare un pochettino più? Dove eravamo fino ad oggi, da 5 anni? Certamente io non posso essere discordante su quanto affermato dal Sindaco e anche da voi altri, per l'amor di Dio, sono vicino, ho dichiarato ieri sera in televisione che siamo stati i fautori di questa maggioranza, io e il Sindaco, se fa piacere al Sindaco, dico e insisto e lo ripeto, quindi non potrei a distanza di un anno dire non sono d'accordo con il Sindaco, non sono d'accordo sul tipo di manifestazione solo ed esclusivamente per la tempistica, non è il momento, per uno che viene come lui pure, io e lui e molti altri qui dentro, l'amico Totò, dai partiti, dalle sezioni, non quando si chiamavano, non quando si chiamano i circoli, io il circolo ricordo, il circolo Togno, Orfei, mi piace chiamare dalla politica la sezione, vado in sezione e lotto fino alla notte alle 2, alle 3 di mattina. Per me che provengo dai partiti, ritengo che non sia il momento giusto domani a 5 giorni dalle elezioni, ma non per noi, un'appartenenza politica al centro-destra, non è un momento giusto per nessuno, né per il centro-sinistra né per il centro-destra, da martedì in poi, finita le elezioni, può essere un momento veramente importante per dire con grande forza cosa vogliamo dell'ospedale, intanto si dice male in giro quando qualcuno pronuncia l'ospedale sarà chiuso, non è vero, è l'unica realtà che abbiamo, è l'unica verità che oggi abbiamo, l'ospedale di Locri non si potrà chiudere, quello dell'Abbiano non si sa se va a Gioia Tavolo o a Palmi, deve scegliere una serie ancora, quello di Reggio si sa che resta a Reggio, quello di Locri, Bellagione che resta a Locri, non si deve dire se sta per chiudere, perché la gente capisce che stiamo chiudendo e contribuiamo a chiudere l'ospedale, non è vero, hanno chiuso dei reparti, non si debbano chiudere, li dobbiamo riaprire, insisteremo ancora, sono d'accordo, ma non è vero che possiamo pubblicizzare in giro, e non è il sindaco, in giro si sta dicendo, l'ospedale sarà chiuso, che facciamo un supermercato con l'ospedale? Io so che quello sarà l'ospedale e quello dobbiamo lottare per potenziarlo, siccome vedo un distacco enorme della nostra popolazione a livello Italia, a livello mondiale, a livello Ionico, a livello Locri, dalla politica, ed è un grave danno, un distacco enorme a non votare, a dire non vado più a votare, io non dico votate il mio partito, in questa settimana dobbiamo incidere fortemente dal punto di vista politico, a dire alla gente andate a votare, ognuno per il proprio partito, ognuno se ha un candidato, se non ha un candidato voti per il suo partito, non lasciamo spazi a chi ha organizzato partiti che non hanno un senso, senza fare nomi, per creare ulteriori disagi a quest'Italia già disgraziata per come è stata combinata, quindi dico solo ed esclusivamente il momento non ritengo idoneo, non ritengo giusto, da martedì tutte le situazioni si possono rivedere, io sono un moderato e credo che si debbano vedere su un tavolo messi vicino, visto che queste non sono parole mie e non è che le concepisco tanti, io sono poi moderato ma decisionista, quando decido la sera alle 8 alle 9 l'ufficio mi deve dare i documenti e mi deve andare avanti, perché ho un settore, l'ambiente dove la mattina alle 10 poi li trovo i cassonetti piene e non raccolta la spazzatura e mi dice non stai facendo niente, quindi devo dare atto e mi devo muovere, quindi alla calma, al moderato c'è pure l'essere decisionista e lo sono decisionista, ma dico adesso affrettare in queste settimane, in 4 giorni, cosa risolveremo noi? Non voglio accusare assolutamente nessuno, mi autoaccuso io da una riflessione, diciamo alla gente non andate a votare, li invogliamo senza dirlo, indirettamente gli faremo capire non andate a votare, secondo me non è un fatto sano in questo momento, perché ci sono molti fatti delicatissimi, potrebbero crescere gente in partiti che non debbono avere assolutamente un ruolo, perché non lo sanno svolgere, con tutti i nostri difetti, secondo me è sempre migliore un politico dei vecchi e non quel raggruppamento che si sta creando per sfasciare completamente l'Italia e forse la nostra regione più sfasciata che è, con le responsabilità che i politici hanno, non vedo questo momento particolare, da martedì mi troverete a disposizione per quello che posso contare, da martedì saremo felici di affrontare tutti e dire in un mese ci serve questo, in due mesi ci serve quello, però cominciamo a dire a chi ci lavora dentro l'ospedale, che deve fare il suo compito, che deve svolgere il suo compito, io quando vado sopra al reparto dei reni, non mi ricordo come si chiama, a Totò lo trovo sempre, dalle mattine alle 8, fino alle 4, alle 5 di sera, alle 6 alcune volte ho telefonato e lo trovo lì sopra, molti altri non ci sono mai, dove sono, cosa fanno, dove lavorano, che tipo di lavoro svolgono, e allora se cominciamo a fare un controllo del genere, se cominciamo a vedere cosa fanno nell'ospedale, perché non funziona, e la politica quale responsabilità ha, siamo tutti d'accordo, ma se ce la prendiamo solo con la politica non sono d'accordo, ma non è per te, per me, mi riguarda, non abbiamo mai tutelato a Capone, il sindacato che era mai stato, però non si può colpevolizzare, però non si può, chiedo scusa, chiedo scusa, quello che dice la sessore Pazza Paraglio, è una cosa che riguarda in generale la pubblica amministrazione non solo l'ospedale di voto, il percorso dell'amministrazione, ritengo che lo sia ingeneroso a debitiare il declino della sanità nella morte, si potrebbe vedere questo, ma si lega a tutti, si potrebbe vedere questo, la sanità è assolutamente siamo qui a fare una battaglia, indipendentemente dal momento, è una battaglia che noi facciamo per difendere il territorio e i cittadini di questo territorio, siamo tutti insieme, destra e sinistra e lo dimostro oggi la compartenza dei sindacati perché non siamo qui per criticare né Scopelliti, né Loiero, né altri, siamo qui per difendere il nostro territorio, siamo qui per difendere i nostri diritti, abbiamo anche rispetto del momento elettorale che sta vivendo l'Italia, è vero che domani abbiamo detto che il mio intervento ci sarà l'insertiva simbolica di un paio d'ore davanti all'ospedale, la battaglia riprenderà il giorno dopo delle elezioni europee, con le modalità che andremo tutti quanti insieme, in testa anche la Sassone della Sassone a individuare tutti quanti insieme domani mattina perché noi abbiamo, noi facciamo politica, abbiamo l'obbligo, il dovere morale nei confronti di questo territorio di difendere la loghe e soprattutto di difendere la sanità, noi non possiamo fare almeno della sanità, lo devono capire a Reggio Calabria, lo devono capire a Caranzaro, lo devono capire all'uomo, attenzione, il ridimensionamento di alcuni reparti, le localistiche, le dottorino non va bene perché hanno trasformato le reparti funzionanti, i commerci di qualità, li hanno trasformati in ambulatori, ciò significa che fino a ieri si facevano interventi, da domani non si faranno più interventi in questi reparti di ambulatori, si faranno medicazioni, questo è quello che sta succedendo, è così, è così, lo vedremo, lo vedremo a tempo, lo vedremo, posso garantire, posso garantire, posso garantire, posso garantire, posso garantire, posso garantire, io sono uno di quelli, adesso parlo come cittadino, che voto centro-destra, e in piazza Nasseria, quando il sindaco ha posto la sua candidatura a sindaco di questa città, alla presenza di scoperta ha posto due problemi, lavoro e sanità, non è concepibile oggi che qualcuno possa pensare minimamente, noi siamo aperti un dibattito pubblico con carte e con giocati di denunce e di quello che tu hai detto, l'abbiamo sempre chiesto, che possa pensare che la colpa sia degli operatori, grazie a questi operatori, se ancora c'è un ospedale che ha detto, l'esempio no, per chiarire, l'esempio l'ambante sul punto, l'esempio l'ambante, siccome non dobbiamo fare questo, ieri pomeriggio, mi amori scusate per questa presa per risponderti, di servizio al laboratorio di analisi, arriva una signora, piangendo, che c'è signora? Dice ma scusate avete detto che qua c'è il culo per le prenotazioni, dice ho telefonato e mi hanno mandato a fare l'ecocardiografia a polistica, l'ecocardiogramma a merito, dice ma che sta più dicendo? Dice sì, le prenotazioni, quindi la responsabilità non è nostra, all'assessore passa a fare, lo invitiamo, gli facciamo leggere tutti quello che abbiamo fatto per dire che ci sono gli impostati ed è ora che vengono messi fuori e mandati a lavorare nelle parti, con questo voglio dire che grazie all'opera e al sacrificio di questa gente se noi ancora abbiamo un ospedale. alla oncologia, che è considerato questo centro di incendenza, sempre, regionale, eccezionale, ma scusate, eccezionale, eccezionale, ma niente, eccezionale, 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 alle oncologie, con malattie, io ti ho legato una pagina qui non so chissimi, con malattie che prima da Sicilia in Sicilia mi pare che ci sia un trasferimento di una parte di questa area sanitaria scilla allora la domanda che io faccio è in questo periodo in cui ci sono questi trasferimenti gli operatori interni che mi riferisco ai medici piuttosto che pensare al proprio ruolo personale o anche ai sindacati piuttosto che pensare alla testa e prendersela sempre con la politica una volta è destra comincia a destra una volta è sinistra comincia a sinistra perché non sono usciti per fare una guerra contraria a questo sperpero del vaporamento questo spogliazione voglio dire abbiamo parlato il sindacato che si è con la terra ma la domanda che vi fa il giornalista è questa voi parlate di buona sanità di ottima sanità di standard dell'offerta qualitativa ma l'organizzazione come sindacati sto parlando tutto il terreno quanto quanto siete cosa state facendo voi per difendere questa organizzazione oppure per attaccare queste disorganizzazioni a parte diciamo alcuni comunicati normali domande voglio rispondere a tutti deve sapere che da 4 mesi manca il direttore non abbiamo il direttore amministrativo da 2000 non abbiamo più il direttore amministrativo anche se viene previsto dall'ospedale un direttore amministrativo un direttore sanitario ospedaliero hanno fatto una porcheria l'ultimo giorno un paio di giorni fa facendo un avviso pubblico e un avviso interno per un direttore amministrativo di tutti gli ospedali quindi un altro direttore amministrativo ha aggiunto quello dell'ASCO due direttore amministrativo noi abbiamo chiesto il sindaco che ha ripetito che vogliamo il direttore amministrativo all'OCRI all'OSCO visto l'arico ospedale e il direttore sanitario perché può avere un interlocutore noi da due anni non abbiamo un interlocutore nessun interlocutore nella struttura di regionale l'unica partenza che può fare il sindacato è quello di stimolare il sindaco a LOPRI abbiamo cercato di stimolare prima del sindaco di LOPRI la conferenza dei sindaci nella zona non abbiamo avuto nessuna risposta in nessun modo abbiamo sollecitato da un anno che qua ogni giorno gli rompiamo le scatole perché essendo il sindaco della città dove ha sede in ospedale è il primo interlocutore che sta riguardo alla sanità i sindacati ogni giorno su quello che diceva l'assessore Passaparo ogni giorno abbiamo detto gli imboscati abbiamo detto di togliere a chi non fa la professione quanto meno non vogliono di disimboscare togliere le belle e togliere le identità ospedaliera che si è reso e si è reso oltre a non fare il proprio lavoro non fanno o percepiscono le identità ulteriori a queste proposte il sindacato non me lo deve dire tu l'abbiamo fatto e quando molti documenti ce l'avrai e te l'hai avuto pure tu che dopo le abbiamo detto queste cose certamente non li possiamo fare noi noi li possiamo solo denunciare io raggiungo noi abbiamo denunciato il commissario con quanto ci riguarda lo dire il direttore il salem ultimamente per la nomina del direttore amministrativo il direttore amministrativo come sempre ben sapete è un pensionato dichiarato non idoneo nella sua professione non professione nella sua attività lavorativa idoneo a qualsiasi attività produttiva è stato nominato con un budget di 60 mila euro per 6 mesi 50 mila euro per 6 mesi l'altro giorno hanno fatto un altro porcheria quando avremmo potuto fare meno di male hanno nominato un direttore sanitario con 30 mila euro perdendo 30 mila euro per due mesi queste sono vergogne per la sanità mentre non si spende una lira non si spende una lira per un euro non si spende io non volevo parlare di un cuore non si spende 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 ma facciamo facciamo un esempio sono d'accordo non c'è niente da dire ti faccio un esempio noi abbiamo il mammo uno dei migliori che c'è ultime tecnologie non viene usato perché non c'è gente che lo sa è curato non c'è niente ma non c'è niente e vengo lì con chi non ve le vanno a prendere per rispondere all'amico della città la cosa pro capita giusto che lo scriviate è 1420 euro a pro capita da persona ma come vengono spesso questi soldi allora non vedete il bus indagato dove non era mi spediamo alla politica chi volete domani mattina ci sediamo a tavola con l'interlocutore prendiamo tutti gli infermieri che devono fare gli infermieri prendiamo gli indoni gli infermieri e li mettiamo in posizione ma quando c'è una direzione che ti comunica che c'è il cup e poi la gente devono fare il tracciato a merito e l'ecocardiogramma lo devono andare a fare a pulista e queste organizzazioni che colpa ho io io ieri l'ho detto io ho votato centrodestra oggi non mi sento di votare scoperdiche perché non mi ha dato risposto ho d'accordo con lui i consiglieri giornali devono venire a darmi questo momento elettorale non che è una cosa che la gente non va a votare la gente non va a votare perché è stanco per questi motivi io ci credo in questo ospedale mi sono andato a operare a Reggio perché qui non si opera a Reggio io sto soffrendo le pelle dell'inverno per la catarrata non sono andato a Villa Versa perché mi vuole operare ma non mi posso operare perché non c'è l'attrezzatura questi sono i problemi non abbiamo personale della sala operatoria vediamo gli infermieri nel passezzo siamo d'accordo ma la politica il leader locutore che fa? lo sai che negli ultimi tempi stanno penalizzando gli infermieri solo di una sigla per mandare a fare i capabuchi noi vogliamo che gli ambulatori restano nei reparti vogliamo che gli ambulatori vengano fatti con ordine nell'oraio dei reparti e gli infermieri siano nei reparti hanno fermato l'ultima porcheria che dici che sai che non è caro assessore passapallo hanno firmato una richiesta di straordinario solo per l'area medica solo per l'area medica e per fargli fare lo straordinario noccuno allora dobbiamo andare se vado in macchina a portare che è in idoneo che poi l'idoneità lo sai com'è idoneo al servizio alla qualifica per la quale è stata assunta ma non può fare sollevamenti pesi c'è una figlia di me ma stiamo scherzando e allora il sindacato è la testa alta io in 42 anni non ho fatto mai un'ora di straordinario non ho mai chiesto niente a nessuno mia moglie fa l'invernia e vi ho fatto il caposala non ho avuto posti privi posso camminare a testa alta potrei stare al mare la mattina invece sono in ospedale a fare il sindacato non abbiamo un interlocutore Pepe Pino se non abbiamo un interlocutore c'è una direzione sanitaria inesistente sono da 4 mesi sono da 4 mesi senza un direttore sanitario l'ospedale Spock senza un direttore sanitario abbiamo 344 infermieri professionali 344 e 129 leggi e non parlo più voglio ripetere quello che ha detto il giornalista Pino Spadano e Pino Lombardi cari amici cari assessori caro sindaco vi siete posti il problema di che cosa offre il territorio della Locre come sanitario e dice dobbiamo parlare della sua interezza certo abbiamo una casa della salute e ci hanno tolto 4 milioni di euro erano 8 abbiamo un centro per l'Eurolesi già pronto e via di 100 ancora è fermo lì paghiamo 60 mila euro l'anno di affitto a Stignaro però l'abbiamo inaugurato che cosa offre il territorio ma lo sapete che il turista che viene nella Locre di quei pochi turisti per togliersi i punti hanno avuto una ferita a un dito devono andare al pronto soccorso di Locre perché i medici nostri di base fanno solo i primi interventi e basta allora che cosa mi offre eppure abbiamo fiori di dirigenti quando mi si parla ha fatto bene a dirlo diremo domani mattina gli ascensori non funzionano andate a vedere gli ascensori abbiamo la cardiologia e tutti c'è il quinto piano quando abbiamo piani terra e primi piani abbandonati a se stessi con stanze vuote dove ogni dipendente ha una stanza e fa quello che vuole passa parla abbiamo 11 entrate 11 entrate e allora siccome al sindacato risponde che il sindacato è una testa e grazie al sindaco di Locri e all'amministrazione comunale di Locri se oggi c'è un movimento e mi fa onore questo però io scusate il termine siccome stamattina vi ho detto a un amico che io non posso andare a chiedere voti per questo centro-destra perché io volevo camminare a testa alta per dire che il centro-destra ha fatto qualcosa la sinistra l'altro sa chi oggi ha avuto in potere e ha determinato questo spazio cercarsi i voti perché io a livello di ospedale ci tengo a questo ospedale e siamo disponibili e chiudo l'ho detto ieri davanti alla traduzione non farlo più veramente quando si parla della 18 o della 18 andiamo ad analizzare qual è la 18 oppure il DPR regionale stabilisce che tutte le strutture complesse esistente nell'ospedale non possono essere soppresse l'amministrazione non può istituire nuove strutture complesse ma lo sapete che abbiamo l'ondoiata che si lavora operando ma ci sono vedi gente ce lo stanno i clienti ma lo sapete che abbiamo un dermatologo che ci viene gente da fuori della nostra zona a fare i piccoli interventi di dermatologia e ce la stanno portando a regge e vedi gente e allora qual è il discorso noi siamo disponibili dopo l'elezione invitiamo tutta l'amministrazione comunale a fare un consiglio comunale aperto e vi portiamo tutto quello che noi abbiamo scritto per gli impostati poi certamente e sono d'accordo così c'è gente che fino a ieri si è andata a consegnare a Sarica per farsi fare l'incarico di ricerca questi non sono degni di stare in ospedale ha ragione se l'allenatore non è all'altezza di organizzare di gestire un reparto come lo facevano i venti primari dove si potrebbero chiamare primari con la prima ius questo è comportamento personale che noi dobbiamo allontanare dal fatto sociale nostro perché chi si consegna non può dare risposte concrete all'assistenza sanitaria noi ci vediamo domani mattina a l'anno del 30 in ospedale grazie 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 grazie